Ma intanto ringrazio io Teguido e ringrazio i militanti della Lega Lombarda perché è un onore parlare al congresso della Lega Lombarda. Il cuore della Lega è qua, la forza della Lega che ha dimostrato anche nei momenti difficili sta all'interno di quei militanti della Lombardia che non hanno guardato agli sputanamenti ma hanno guardato al futuro dei loro figli e hanno continuato a combattere con la Lega. Prima ho sentito diversi interventi, io sarò breve ovviamente, ci saranno interventi più autorevoli del mio, però ho sentito un passaggio importante di Matteo. Matteo ha detto combattiamo per la libertà, ebbene guardate che combattere per la libertà e per combattere per il nostro futuro in primo luogo vuol dire combattere per mantenere quello che siamo, mantenere le nostre tradizioni, mantenere la nostra cultura, non vergognarsi di avere un crocefisso appeso in classe e combattere perché nelle scuole ci sia il presepe. Guarda, mi hanno detto ieri che una scuola materna nella mia città Trieste ha fatto la riunione con i genitori e hanno detto che ci deve essere l'albero di Natale ma non il presepe perché non si sa mai che offenda qualcuno. E non è una cosa banale, non è non avere delle statue in più all'interno di un istituto scolastico, vuol dire che stanno cancellando quello che siamo ma in modo scientifico, in modo scientifico, non a caso, cosa fanno nelle aule parlamentare PD con l'appoggio colpevole del Movimento 5 Stelle? Approvano lo Ius Soli, ovvero la cittadinanza facile, con la scusa dobbiamo integrare tutti, come se la cittadinanza fosse motivo di integrazione. E infatti vediamo che quelli che hanno fatto gli attentati a Parigi, che avevano fatto gli attentati a Londra, avevano cittadinanza francese e inglese. Quindi la balla che la cittadinanza serve all'integrazione è semplicemente in realtà uno strumento per garantire nuovi bacini elettorali a chi sa che le prossime elezioni non le vince più. Stiamo vivendo un periodo nel quale noi militanti, tutta la gente comune deve alzare la bandiera della libertà. È una bandiera di libertà che prima di tutto serve a tutelare la sicurezza dei nostri cittadini. Noi abbiamo un governo che sta dando, l'ha scritto Renzi stesso, 3,3 miliardi per l'accoglienza di immigrati clandestini e abbandona, come è successo a Milano, una persona disabile nella macchina e quando vada a Pisapia a chiedergli aiuto gli dice «No, guarda, non mi sembra ci sia affollamento nel tuo alloggio, che è la macchina». Mentre regalano accoglienza a 35 euro al giorno agli ultimi arrivati. Tenete conto che proprio in Frivenza, Giulia, avete la fortuna di avere Maroni, governatore della regione e io la drammatica sfortuna di avere Deborah Serracchiani. hanno fatto un progetto che regalano 400 euro al mese a chi ospita nella propria casa un richiedente asilo. Se sono due diventano 800 euro. E per sicurezza questi richiedenti asilo, per sicurezza che non si annoino, che non abbiano nulla da fare, gli pagano il trasporto gratuito per portargli a corsi di formazione e di lingue gratuite. Questo è il servizio che viene dato ai clandestini con i soldi, il sudore, la fatica, le tasse che paga la nostra gente. Allora cosa fare? Noi non siamo solo il partito dei no, il movimento dei no. Noi abbiamo fatto delle proposte anche in tempi non sospetti. Quando abbiamo detto «chiudete le frontiere» ci hanno dato dei pazzi, degli xenofobi, dei razzisti. Ma ricordate come Alfano e Renzi ci prendevano in giro dicendo che puntavamo sulla paura delle persone, quando sollevavamo il problema che all'interno delle centinaia di migliaia di clandestini potevano nascondersi dei terroristi. Oggi scopriamo che uno degli attentatori di Parigi è passato attraverso la rotta clandestina balcanica. Scopriamo che è sbarcato in Sicilia un terrorista che fortunatamente è stato preso e rimpatriato. Ma quanti ce ne sono che non sappiamo su territorio nazionale in Europa? Lo scorso anno su 170.000 arrivi 100.000 persone non sono state identificate. Altro che sicurezza. Noi non sappiamo chi c'è su territorio nazionale. E allora quando chiediamo controlli non lo facciamo perché abbiamo una paranoia personale che ci divertiamo a dire cosa a caso. Lo facciamo perché ci rendiamo conto del pericolo e le vogliamo dare soluzioni. Ma sapete, vado a chiudermi, scuso se mi sono dilungato troppo, qual è la vera fregatura che viene detta poco durante i dibattiti televisivi, che non è al centro dell'attenzione mediatica, ma la verità è che hanno smontato già a partire da Monti tutti i sistemi di sicurezza e di controllo sull'immigrazione clandestina, chiudendo i CIE, sono rimasti solo 5 in Italia metà chiusi, voluti da Maroni e impedendo di fatte le espulsioni. Abbiamo avuto un incontro proprio la settimana scorsa con il personale delle forze dell'ordine e loro in sostanza, anche se trovano oggi un clandestino, l'unica cosa che possono fare è dargli il foglio di via dicendo se sei buono, se sei bravo, dovresti se puoi allontanarti. Perché CIE a cosa servivano? A mettere in luoghi controllati persone che dovevano essere espulse, avere il tempo necessario per capire chi erano veramente e quindi rispedirli nel loro paese di origine. Cosa ha fatto il governo a guida PD? Anche questo, con il voto complice del 5 Stelle e su iniziativa del drammatico, vergognoso ministro Alfano, hanno ridotto i tempi di permanenza nei CIE, da 180 giorni a 90 giorni. Nella sostanza, quei pochi che finiscono dentro, fanno un passaggio sporadico e poi sono liberi di circolare tranquillamente su territorio nazionale. E allora dobbiamo batterci. Abbiamo delle proposte depositate, proposte depositate come per esempio già da anni dalla Lega, depositata come per esempio il divieto di indossare il burca, dobbiamo riconoscere che è presente sul territorio nazionale. La proposta di legge per esempio sulla difesa personale, depositata da mesi, fortunatamente adesso calendarizzata, dopo drammatici fatti perché prima nessuno della maggioranza voleva occuparsene. La proposta per controllare e chiudere le moschee, depositata, mai approvata. Allora capite che questa non è una battaglia per far avere un voto di più alla Lega. Noi siamo contenti se la Lega vince, se la Lega va bene, ma per avere un futuro della nostra gente, per dare un futuro ai nostri figli. Io voglio andare a dormire la notte, sapendo che tutti insieme abbiamo fatto il possibile per garantire quel futuro. non è soltanto chi è dall'altra parte, chi è del PDO dei Cinque Stelle, che votano Mare Nostrum, che votano l'invasione e i nemici, ma i nemici sono anche chi non fa niente, chi è in silenzio e non si sente responsabile di quanto sta succedendo. Gli unici che invece stanno combattendo sono quelli che guardano un po' più avanti del loro naso, che guardano un po' più avanti di quello che vedono ogni giorno, ma vedono anche il pericolo di quello che potrebbe essere domani. Allora, tutti insieme, partendo da oggi, ovviamente faccio i complimenti al neosegretario della Lega Lombarda, Paolo Grimoldi, che devo dire è un ottimo collega ed è anche, si è dimostrato anche in questo periodo di commissariamento, un'ottima guida per la Lombardia. Chiudo soltanto dicendo, ricordiamo anche, invece di andare a prendere, o meglio, a prendere e poi lasciare liberi i terroristi, come è successo a Bolzano, invece la magistratura perde vent'anni per inquisire le camicie verdi e persone perbene che non hanno fatto nulla e hanno soltanto il demerito di essere persone oneste. Viva la Lega, viva la Lega Lombarda e grazie dell'onore di avermi accolto qui. Grazie. 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 Grazie.